Pronti 5 milioni di euro per la riqualificazione e la specializzazione i lavoratori favorendo così il rilancio delle imprese siciliane. A proporre e tenere i corsi, oltre che gli enti di formazione e le università, potranno essere anche le imprese stesse. Questo l'annuncio dell'assessore regionale alla formazione e all'istruzione Mimmo Turano. E' quanto prevede l'avviso 4 finanziato con le risorse del PR Sicilia FSE 2021-2027 per un importo totale di 5 milioni di euro suddivisi fra progetti formativi aziendali cui vanno destinati 2 milioni, progetti formativi multiaziendali cui vanno assegnati 2 milioni e mezzo, progetti formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione a composizione mista cui vanno dati 500 mila euro, possono presentare le proposte formative, le imprese con sede legale e una sede operativa in Sicilia, enti di formazione, università statali e non statali, a esclusione di quelle telematiche e le fondazioni degli istituti tecnici superiori, tutti sempre con sede operativa in Sicilia. L'avviso, spiega l'assessore Turano, è rivolto a quei lavoratori occupati e operanti in Sicilia, oltre a manager e soci delle imprese. I corsi serviranno ad aggiornare queste figure. Rafforzando le competenze legate alla digitalizzazione e all'automazione dei processi, aspetti che hanno mostrato la propria centralità per la competitività delle imprese nei mesi più difficili della pandemia e che oggi si rivelano sempre più importanti per stare sul mercato. Così, di fronte a una situazione nuova, il governo regionale, continua l'assessore Turano, propone una soluzione innovativa. Potranno essere anche le stesse imprese, a proporre e organizzare i corsi all'interno delle proprie strutture, o delegare gli enti di formazione. Queste le tipologie di progetti previsti, formativi e aziendali, che riguardano la realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per lavoratrici e lavoratori a cui possono accedere tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, dal comparto produttivo e dalla posizione di mercato.